...e oggi la forzata annanica dell'Unione Europea per molti versi e l'agenda del PEM è in completa cottura rispetto alla linea Macron su questo e anche rispetto alla linea storica della PEM. ...e oggi Draghi è andato ad Algeria a firmare un contratto per il gas algerino per cominciare a superare evidentemente la dipendenza dalla Russia. Le sanzioni contro questo, quanto sono, come funzionano, quanto mordono la Russia e quanto chi ne ha emesse. In questo parla il Dattarino e in questo e altro parliamo a partire dai titoli. La storia che vi stiamo per raccontare non è come le altre, una di quelle con un inizio e una fine. La storia di Matilda e Michele è una di quelle che non finisce mai e non perché sia una storia perfetta, senza ammacadure, senza lacrime e rimpianti, ma perché ogni volta che sembra interrompersi, trova il modo di rinascere, perché chi ti ama, la ritorna...